Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della tecnologia Benvenuti, 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 benvenuti Allora, come vi ho detto nello scorso video, cominciamo subito a fare questa recipe Perché non voglio perdere tempo, voglio che sia una cosa rapida e indolore Non voglio perdere proprio neanche un secondo Pam, è incodata subito Allora, adesso dobbiamo insegnarli a fare tante belle cosettine Tipo Reinforced Glass, che non è così difficile dai Hai visto che era facile Poi gli devo insegnare a fare l'Irradiante Schifo Coso Che ci vuole il Sunarium Lo facciamo E il Sunarium si fa con la U-Merdapter Con la U-Merdapter Ok, tutta la recipe annullata No ragazzi, seriamente, lo devo salvare Lo incodo Lo incodo così me lo tengo Non l'avevo considerato il Sunarium che ci vuole la U-Matter Porca paletta U-Matter ragazzi, per farle un macello adesso, io ve lo dico A devanza dall'Oil lo sappiamo fare Ci abbiamo tutto, basta Ste pattern code sono quelle che mi servono Poi, oltre a questo volevo lavorare con l'Uranio E intanto cominciare a progettare per fare la U-Matter Per fare la U-Matter ragazzi ci vuole il Matter Fabricator Non è il Mast Fabricator Non ve sbagliate, è Matter Non Mast Il Mast è quello stupido della EC2 che fanno i mongoli Qui c'è la Greta che ci vuole il Mast Il Matter Fabricator Ciao, sto a confondo pure io E si crafta, oddio, non è troppo difficile Oddio, l'Apotronic Energy Orb Porca paletta Ok, ci vuole l'Unplate Non è un problema, lo faccio Ma frega un cazzo, lo faccio Allora Per fare quello ci serve l'Implosion Compressor Sì, mischiamo tutto ragazzi Facciamo l'Implosion Compressor a sto video? Massi, Implosion Compressor e vai Allora, Recyp Bam Allora, già non stessimo capiti Allora, c'è un circuito e Machine Casing Circuiti ce li dovrei avere Eccoli qua E il Machine Casing Anche, ragazzi, io spero che L'audio sia venendo bene E che la tastiera e il mouse non dia troppo fastidio Se danno fastidio ditemelo, eh Che almeno mi regolo Ok, perfetto Dovrei essere già in grado di craftarlo? No, perché ho sbagliato Il compressore non va bene quello Non va per niente bene quello Non va per niente Questo va bene Questo va bene, sì Questo va benissimo Encode Perfetto, dovrei già essere in grado di craftarlo, lo sapete? Andiamo? Andiamo a vedere? Proviamo? Testiamo? Dai Andiamo nella zona crafting Allora, eccoci qua Mettiamo Implosion compressor Perfetto E vediamo se riusciamo a craftarlo Implosion Non dovrebbe essere difficile Dovrebbe fare in poco tempo Vediamo un po' che dice il nostro autocraft Dice che gli mancano le carbon plate Gliel'ho insegnata a farle? No Non va per niente Giusto Gliel'ho insegnata a fare le carbon plate Questa è una brutta cosa Oddio, bruttissima no Potrebbe essere un po' meglio in effetti Perché effettivamente è un po' Un po' cosato Ok, andiamo ad insegnare questa recipe Prendiamo la zona C2 Molto semplicemente Si prende un interface Che già ho tutto craftato Anzi, nemmeno serve l'interface Perché già ce l'ho Eh, gli insegno qui Scusa, ma tanto va compressato Ok, compressa Grazie Allora L'area recipe Che noi dobbiamo fare È Questo Più questo Ci dà Eh sì, ciao Questo Più il compressore Ci dà questo Encode La mettiamo Nell'interface E abbiamo la nostra recipe Ora dovrebbe partire Partito? Partito Nice Ok ragazzi Abbiamo fatto Il prossimo compressor E questo va a 32 Stavolta sono sicuro Che va a 32 Vaffanculo Scusate ragazzi Ma Gregorio Si mi sta a fare un po' Ro del culo Ultimamente Comunque Adesso Dobbiamo fare Le advanced machine casing Queste qua Oh no Mi sa che Porca paletta È vero Ho finito lo steal di nuovo No no Ce l'ho ancora un po' Ok Mi erano rimasti un po' di blocchi Eh Per farli tornare normali Come faccio? Come faccio Attorno a un blocco lingotto Lo devo cuocere in fornace Vero? Lo cuocio in fornace O lo polverizzo Più la polvere E faccio prima Boh Sì in fornace C'è una fornace qui Ragazzi non ho una fornace qui Prendete conto Lule È assurdo Andiamo di là Ma andiamo a casa Certo è possibile Che io non ho Abbastanza steal plate Scusate ma quante ne ho? Aspetta 261 steal plate Guarda che me bastano Ma quanti ne devo fare? Aspetta Reinforz Reinforz Questi Ma in teoria Non mi sembra Aspetta Aspetta Non me ne servono tante L'implosione compresso Si fa con Una decina di quelle 8 No una ventina Un po' di più 20 forse Vabbè aspetta Aspetta Facciamo l'autocraft Di questa roba Scusami tanto Scusami tanto Circuit Ad avanza il circuit Giusto? Sì E poi serve il machine casing Quello avanzato Giusto? Ad avanza machine casing Bam Craftato Instant Boom Ah sì ovviamente Deve compressare Perfetto Compressato Sarà stato troppo lento Machine casing E circuit Le piastre Non vanno bene Quelle Ci vogliono queste Non sbagliate maglie D ragazzi Siamo nel 152 Non fate cagate Come faccio io Non fate due circuiti Perché sennò si bugga tutto Ah non la pattern Non la fate senza Non giocate senza pattern Sennò siete Rain for Rain No rain Rain Non è pioggia Ok ne facciamo Ce ne servono quindi 20 Abbiamo detto Eh facciamo ne 20 Funziona Perfetto GG andiamo nella zona Allora Intanto metto a carica il jetpack Come si assembla sto coso Servono anche dei basic Non solo del advanced Machine casing Machine casing Solo 8 Perché solo 8 Hai finito la redstone Ok Ok Andarla a rimettere L'energy manipulator Dove metter un po' di diamanti L'ha diventata Dubrica alta redstone Porca paletta Andiamo andiamo Ok Ho messo a fare Un bel po' di redstone Dovrei avere redstone Sufficienza adesso 3.400 addirittura È già un caro drastico Porca paletta Quanta redstone consumo Ok Quindi dovrei avere adesso I miei reinforced Machine casing Giusto Beh Perfetto Ora abbiamo 20 Spero Basti Allora non so esattamente Quanto ce ne vogliono Allora questo viaggia a 32 Sotto 32 e uno lo mettiamo sotto Però 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 Qui sorge un dilemma Allora a 32 Però lo facciamo passare Da Qui L'implosio complesso Era un problema raga Un problema di base Molto semplice E che va nel terreno Proprio nel terreno Vedete come Nel terreno Sta cosa me la ricordo Stavolta non mi sbaglierò Come il grinder Sta cosa me la ricordo benissimo Va nel terreno Perché il punto di accesso È Il sopra Adesso vi faccio vedere Come è il setup Guardate Guardate La croce Vedete la croce La croce Con i quattro angoli Ecco così si fa Poi la stessa cosa Deve fare qui La croce E anche qui Un'altra croce Avete visto Poi altri qua Tra gli angoli E poi qui Altre croci Sono tutte croce Su croce Su croce Voila Sono quindi 8 9 10 12 blocchi No 18 blocchi Quanti Quanti che ho messi 3 6 7 8 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 9 9 Wtf No sto contando male io Ah so Oh 1 2 3 4 8 8 8 questi Perché 18 Scusami 8 Sono 10 Ah 6 6 6 Quelle erate Vero sono 10 Che fail Sì sono 18 Ok quindi 18 Cioè io Cioè pensate no Io sapevo che erano una ventina Però calcolando non ce l'ho arrivato Capito Cioè vi rendete conto C'è 0 eh C'è 0 proprio E voilà Ok Ecco qui ragazzi Il prossimo compressor sistemato Più o meno Oddio Ci ho messo un export basic Perché alla fine non mi serve un avanzato Oddio Perché l'iridio ce lo porta a mano Per ora effettivamente Fare un autocraft di iridio Ancora non è il momento Cioè sinceramente mi manca un po' di roba Ok Quindi Per fare questo iridio Mmm Tu se li diamo soffare Iridium plate le soffare Iridium Iridium plate Iridium va dentro Plate bending machine Qui sotto Dov'è la plate bending Non c'è un export Per ma export Cos'è questo cavetto qui Perché tu sei qui cavetto Muori Muori Ok Dicevo mi serve un export Per esportare questo iridio E come export usiamo Questo che c'è qua Niente Questo export Grazie Molto gentile Gentilissimo E Esporta Iridio Piastre di iridio Piastre di iridio Raga Mamma mia Sto avanzando in tecnologia ragazzi Oh Non ci credo mai Ok Dopo le piastre di iridio Che ovviamente mi servono Per fare questo craft Wow Ci vogliono le rolling machine E queste le dobbiamo attaccare a casa Eh sì Le attacco per forza a casa Che non posso fare altrimenti E anche là mi servirebbe Un altro preciso Un export Però dettagli Lo frego da qua sopra Dettagli Allora Cosa ci serve? Prima di tutto un industrial diamond Che li so fare Oh Ce ne ho già 4 Interesting 4 Perfetto Poi Il nostro iridio Quello è tin ragazzi Non confondiamo l'iridio con il tin Ecco qui Iridium plate Madonna Devo trattarle bene Queste cose Sono rarissime Vediamo di non perderle Ok Ah non andavano così Vabbè E poi ci vanno gli alloy E devanzo ad alloy Invertiti però Così Perfetto Et voilà Stiamo facendo il nostro iridium alloy Facciamo altri diamo Altri industrial diamond Così facciamo altri Vai 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 Quanti li faccio? 8 Allora Adesso mi sono trovato in un'altra situazione Il cola ragazzi Ha rotto il cazzo Lo polverizzo tutto Ora metto tutto il polverare Se vi è spappolato Iridium alloy Wow Ok Dopo questi ci serve Un'altra cosa molto importante Che è la La industrial tnt Che è questa qui Industrial tnt Eccola qua Si crafta con la tnt normale E la flint Tnt normale Lo posso fare? 41 Not bad Dove essere tnt? 52 Not bad Ok 52 tnt dovrebbe bastare Per parecchi craft Non troppi però Serve l'altro diamo L'ha fatto? Si L'ha fatto Si Non troppo Ma l'hai fatto buono Wow Altro 6 Ok ragazzi Lascio craftare Sarò le machine Ok ragazzi 8 iridium alloy Per ora Per ora eh Me li faccio abbastare Sinceramente Per ora Non mi servono Veramente altro Cavaletta 8 sono tanti eh Ok Andiamo qui al nostro Implosion Mettiamo L'iridium alloy Insieme All'industria Tnt Bam 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 Piastro di iridio Raga Bam Ok E adesso dobbiamo fare Il nostro Matter Fabricator Vabbè ragazzi Abbiamo fatto l'iridio Io Sono un po' stanco C'ho un po' di mal di testa Quindi Non c'è la faccia Registrano un altro video oggi Mi spiace Oggi sono uscito Tre video Accontentatevi Cioè sinceramente Accontentatevi proprio E vi ringrazio per Tutti mi piace Per tutti quelli che mi seguono Lo dirò sempre Non potrò mai smetterlo Vi ringrazio a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tante Siete fantastici Ehm Io vi saluto qui Ci vediamo nel prossimo video Dove andremo a lavorare Matter of matter Che alla fine Non dovrebbe essere così difficile Da craftare Ragazzi Anzi Già che ci sto Mi faccio La resa Intanto sto qui Comunque Ripeto Chiederò sempre Che ne pensate Di come sta andando la serie Come sta andando Che ne dite Vi piace Non vi piace Fa schifo Lascia perdere Torno a cambio Cambio mod Cambio Che cacchio Ne so Sinceramente A me piace troppo Sta roba È proprio tutto quello Che voglio fare Sta tutto qui Questo è il minecraft Che io voglio L'elettricità Gli avanza Machine block L'apotron energy orb Gli energy flow circuit E tutta sta roba qui Bellissima Che Wow Ok Bam Al centro qui ci va Un lapotron energy orb Che dovrei craftare Purtroppo Non posso Perché non lo so Perché non posso Posso invece Non crafto adesso Non crafto adesso Sette Begin Ci metto una stupidata di tempo Un volà Un lasso di tempo Inesistente Pam 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 E rinplay Fatto Cioè dove era Spiegami dove cazzo Era la difficoltà Cioè io questo Già lo faccio Cioè io adesso Vado a casa Lo metto in autocraft Raga No non sensi Veramente Andiamo a caso No scusate ragazzi Non chiudo qui Voglio fare sta cosa Ok allora Mettiamo stare sepp All'interno No Finito lo spazio Aia Aia Dolore Dolore Finito lo spazio E io lo metto in craft Cioè raga Bella Se beccamo domani Dove c'è un romatter fabbrichetto Ciao ciao Bella per voi Si guarda la roba Ah però viaggio Che bello ragazzi Ciao ciao